ciao ragazzi benvenuti sul mio canale io sono tuba boss e siamo qui con takedown red saber cominciamo dai mi scuso se sarò un po impacciato ma è la prima volta che ho un canale youtube quindi sto provando questa nuova esperienza vediamo se c'è qui qualche tango da uccidere eccolo la già sparano ecco eccolo mannaggia non so se conoscete la storia di takedown ma pare che intanto che lo sviluppatore sia unico non c'è un team c'è un solo sviluppatore e poi doveva essere anzi no doveva è stato pubblicato sia per 2 è stato pubblicato sia per xbox che pc eccola non muore non muore ed ha avuto addirittura una votazione da un critico di 2 su 10 eccolo lì eccolo lì eccolo lì no è stata avuta questa brutta votazione perché come si può ben vedere come si può ben vedere è uno è pieno di bug e glitch ovviamente come potrete notare ok 2 l'abbiamo fatti fuori andiamo eccolo eccolo io rimango allibito riproviamo vediamo se questa volta andrà un po' meglio ok non danno neanche il tempo di respirare andiamo alla ricerca di tango eccolo la uno eccolo eccolo oh continuiamo e vedete i piedi dai no grande cerchi qualcuno no ricarico ricarico sono indistruttibili siamo tango 2 tuba boss 0 eccolo eccolo oh va bene meno uno ce ne ho altri 30 da da uccidere per sgombrare questa nave incliniamoci niente almeno così sembra si niente eccolo la uno eccolo uno vediamo gli tiro una granata ma non l'ha tirata ma vabbè un altro di quei bug proviamo di nuovo eccola la è spelosa vediamo com'è morto vabbè niente di divertente ce ne sono state di molte più divertenti lungo le mie prove diciamo tecniche e andiamo avanti alla ricerca di tango vediamo 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 andiamo avanti qui c'è qualcuno incliniamoci mi sembra nessuno ok ok dai possiamo andare vabbè vabbè le paure che ti fa prendere questo gioco neanche un horror ok saliamo con cautela vediamo andiamo 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 no non ti fa zero ok da questa parte non c'è nessuno vediamo dalla finestra nessuno ok entriamo in quel corridoio e preghiamo che non ci sia nessun tango ok per ora pare nessuno in questa stanza l'abbiamo già controllato dalla finestra vediamo questo corridoio vediamo oddio ưa ma ecco grande ma stange mi ha colpito via 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 vediamo ricarichiamo ricarichiamo e speriamo bene vi anticipo che ci saranno molti video su questo canale o no si spererà ma chi? come è possibile? chi mi ha sparato? mamma mia e va bene dicevo ci saranno molti ma molti video almeno si spera in base a come andranno le cose già sparano non sono neanche uscite già sparano eccola là cosa? incredibile incredibile come probabilmente già saprete le hitbox di questo gioco sono totalmente sballate rispetto a come dovrebbe essere però resta comunque non dico non muore come potete bene vedere dicevo nonostante sia uno dei giochi più buggati di sempre almeno secondo me resta uno dei miei preferiti perché comunque è divertente molto divertente andiamo da questo lato vediamo se qualcosa adesso che riusciamo a combinarle eccolo dai 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 no incredibile incredibile no non è possibile non è possibile vabbè insaliamo e vediamo questi container va bene scendiamo andiamo scendiamo su qui non c'è nessuno andiamo verso la poppa della nave e vediamo di combinare qualcosa si spera ovviamente io come stavo accennando prima sono un appassionato di informatica e videogiochi e ho deciso di aprire questo canale perché mi piace trasmettere la mia passione ad altri magari con ormai ho appena scoperto che youtube ha appena implementato una chat all'interno dell'applicazione ancora non ho controllato sul sito però c'è una specie di chat con e tramite di s si può parlare direttamente con i creator di youtube questa è una delle tante novità di youtube quindi dicevo tramite questa applicazione magari chi vuole possiamo scambiarci opinioni magari possiamo fare qualche video insieme si vedrà dai vediamo come andranno le cose ok questo abbiamo fatto fuori saliamo di nuovo vediamo 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 questo l'ho ucciso io non mi ricordo eh là c'è gente ok uno proiettili vaganti è un ninja non muoiono non muoiono scappa 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 che diventano invincibili ok 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 va bene va bene va bene va bene ah chi spara chi spara maledetto va bene questo è il mio primo gameplay per quanto riguarda il mio canale grazie per la visualizzazione alla prossima grazie per la visione